L'amministrazione comunale di Pineto fa il bilancio di un anno del centro d'ascolto Il Sentiero, attivo dall'ottobre 2011 presso il distretto culturale di Via Oberdannascerne. Il sindaco Luciano Monticelli e l'assessore alle politiche sociali Vincenzo Fiorà hanno trascorso una serata con i volontari della struttura, dedicata alle persone che vivono in una condizione di disagio sociale che sia tossicodipendenza, soprattutto, ma anche alcolismo, piuttosto che dipendenza dal gioco. Il sentiero nasce quindi come un luogo di incontro con volontari preparati per ascoltare perché essi stessi sono stati in grado di affrontare e superare situazioni difficili di disagio. Forti della loro esperienza e la formazione presso il CES di Pescara sanno accompagnare chiunque ne abbia bisogno nella ricerca di soluzione ai propri problemi. Nel centro di Pineto lavorano numerosi operatori che, una volta valutata la situazione, cercano di definire con la persona ascoltata un progetto di aiuto specifico, sostenibile e rispettoso delle potenzialità e della dignità di ciascuno. Lo sportello è a disposizione gratuita della cittadinanza ogni lunedì dalle 18.30 alle 20.30.